ciao ma se ti seguo da parecchio volevo chiederti se puoi fare un video in installazione per questo tipo di pull sight ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video quindi ho comprato questo interruttore l'ora tap molto particolare mi stuzzicava il fatto che ci fosse un comando senza batteria diciamo dalla vita infinita l'ho preso normalmente non è che mi arriva un messaggio compro il prodotto faccio un video purtroppo non è fattibile questa cosa però ripeto mi ha incuriosito quindi andiamo ad analizzare insieme vediamo un po cosa può fare ma prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare tutte le notifiche e di seguirmi su instagram massidattoli perché metto sempre tutti i post dei video che sto preparando e dei contenuti che ho appena pubblicato sul canale eccolo qua controller e ricevente controller che è un push button opera da meno 25 a 50 gradi autoalimentato la ricevente che ha un relais alimentata a 230 volt carico massimo di 10 ampere nient'altro di interessante e invece si abbiamo i dati sulla trasmissione radio quindi parliamo di una trasmissione rf a 433.75 megahertz speriamo che non ci siano poi disturbi sulla frequenza 433 istruzioni con anche l'italiano interruttore cinetico autoalimentato vediamo se ci sono indicazioni particolari per le distanze il ricevitore può essere avvitato messo in giro e si può mettere direttamente dentro la lampada dice che c'è la possibilità di avere anche due trasmettitori che comandano lo stesso ricevitore il relais in dotazione nel kit con il trasmettitore è già accoppiato però se dovessimo accoppiarlo c'è una procedura di accoppiamento dove bisogna premere il tasto sul ricevitore per tre secondi quando l'indicatore lampeggia rilasciare il tasto rientra in fase di accoppiamento premere l'interruttore cosppondente per due volte continuamente non dice se c'è un numero determinato di interruttori che si possono aggiungere va bene cacciavite in dotazione piccolino sarà anche scomodo ad usare però almeno c'è due tasselli con due viti un biadesivo quadrato e due biadesivi lunghi ok questo è il ricevitore con la sua antenna questo è il pulsante nero per l'accoppiamento fase neutro in inghesso neutro e fase in uscita dice anche quanto spelare il filo e che accetta fili da 26 a 16 avg un 2 e mezzo comunque c'entra ci sono queste due rette per il fissaggio che possono essere rimosse comunque prodotto marchio c è quello vero certificato ross molto piccolo è doveroso fare un confronto con un mini quindi leggermente più corto leggermente più largo senza contare le rette leggermente più spesso però a metterlo in una 503 sicuramente non ci sono problemi e qui arriviamo al tastone questo è il tastone la base che si apre in questo modo praticamente questo è il movimento che va a premere questa lamella vedete qui c'è un magnete con un avvolgimento genera una piccola diciamo corrente elettrica che va ad alimentare il circuito che manda il segnale al ricevitore tanto semplice quanto geniale se funziona bene qui abbiamo lo spazio per due viti o diversamente possiamo usare il biadesivo ora lo richiudiamo quindi facendo questo movimento lui dà l'impulso e attiva il relè e non ci resta che collegarlo e provarlo porta lampada lo colleghiamo su fase neutro in uscita i morsetti arrivano chiusi quindi sono da aprire io il cacciavite in dotazione non riesco a usarlo comunque si riesce a usare la misura è perfetta per il morsetto ma io preferisco il mio quindi lampada in uscita su neutro e linea che era fase semplicissimo fase in ingresso e neutro in ingresso ora l'alimento perfetto qui c'è un piccolo led blu che si illumina sul ricevitore rimane fisso la lampada appena alimentato è accesa vediamo se fa qualcosa premendo molto bene questo è il bello della diretta ah ok si è ripreso probabilmente ci voleva un attimino quindi pressione accende pressione spegne semplicissimo siamo a 10 centimetri diciamo che è molto facile provo ad andare almeno in fondo alla stanza poi faremo un sacco di test dunque il feedback della pressione è un po diciamo un po meccanico si sente poi e tra l'altro è rumoroso questo bisogna tenerne conto perché sentite un po rumoroso ma per la meccanica interna per come composto per come concepito è normale ora l'unica cosa che resta da fare è vedere che portata io sono nel piano interrato quindi già se vado sopra dall'altra parte della casa e riesco ad azionarlo attraverso una soletta muri mobile tutto quanto secondo me è già un buon risultato proviamolo insieme non taglio neanche un centimetro così vediamo veramente se prende o no tolgo la gopro e partiamo facciamo un po di gradini anzi facciamo una cosa spegniamo tutte le luci luci banco off spegniamo anche l'illuminazione di qua almeno vediamo se fa luce faccio qualche gradino si è accesa apro la porta spegniamo la luce delle schiale vediamo un po ok da qua funziona spegniamo anche tutte le luci di casa così riusciamo a vedere dalle scale se si accende funziona allora lasciamo l'accesa vado dall'altra parte della casa proviamo a schiacciare se quando andiamo sotto è spenta direi che un buon risultato andiamo a vedere si aspetta allora contiamo insieme la distanza lì c'è la lampadina dunque dal banchetto facciamo un passo due passi tre passi quattro passi cinque passi abbiamo fatto una scala abbiamo passato una soletta andiamo in qua facciamo ancora un po di passi andiamo di qua andiamo di qua arriviamo in questa camera il punto più lontano potrebbe essere quell'angolo lì rifacciamo tutto da capo quindi lasciamo l'accesa rifacciamo tutto il percorso andiamo nel punto più lontano ok se si spegne da qua secondo me è tanta roba però è ancora accesa diciamo che in un ambiente un alloggio sullo stesso piano secondo me ha una portata molto molto alta io ho voluto fare una prova estrema andando dall'altra parte della casa con ancora una soletta e mezzo e avete visto che non ce l'ha fatta anche se devo dire che ripetendo il test qualche volta ce l'ha fatta qualche volta no per essere diciamo sicuri al cento per cento stesso piano anche con pareti in mezzo non ci sono problemi da ogni punto della vostra casa per grande che sia chiaramente avere dei comandi per un punto luce ha senso averli nello stesso ambiente quindi è una condizione che in realtà non si va neanche a verificare però sappiate che ha comunque un'ottima portata disturbi per il 433 io sinceramente l'ho tenuto in funzione un mesetto non ne ho mai avuti nessuna falsa accensione nessun falso spegnimento quindi devo dire onestamente ha funzionato bene il relay molto piccolo lo potete mettere dove volete se ad esempio avete un punto luce già comandato da un solo interruttore non più pulsanti deviatori eccetera ma un solo interruttore come possiamo installare questo comando cinetico e farlo lavorare correttamente parliamo quindi di situazioni di installazioni dove noi abbiamo una fase un neutro che alimentano una lampadina quando la fase viene interrotta da un interruttore per montare il nostro lora tap con comando cinetico dobbiamo eliminare l'interruttore quindi i due fili che vanno all'interruttore li dobbiamo mettere insieme per creare una fase diretta che entra in l in del dispositivo quindi primo morsetto a sinistra il neutro diretto che entra in n in secondo morsetto il terzo che un altro neutro semplicemente in parallelo va alla lampada e l in uscita che è la fase per la lampada collegata su quattro morsetto chiaramente se nella scatola non abbiamo un neutro da mettere nel secondo morsetto lasciamo la fase diretta e montiamo il loro tap della lampada se dobbiamo comandare una presa con il comando cinetico stessa cosa stacchiamo fase neutro dalla presa li portiamo sui primi due morsetti e in uscita ci colleghiamo fase neutro dal terzo e il quarto veramente veramente semplice mi raccomando prima di mettere mani all'impianto tirate giù il generale salavavita al contatore per lavorare in sicurezza e iniziate poi a comandarlo con i comandi cinetici senza batteria e senza fili uno incluso nel kit due o più se riuscite a trovarli singoli io non ho trovato su amazon il link per il singolo comando cinetico vi lascio comunque il link di questo che vi ricordo non abbiamo ancora parlato costa 25 euro assolutamente alla portata di tutti installazione alla portata di tutti cosa possiamo comandare luci verosimilmente tutte perché con un contatto da 10 ampere riusciamo a gestire 2002 2300 watt proprio in caso limite chiaramente con delle luci in un ambiente domestico difficilmente arriviamo a queste potenze possiamo comandare una presa sì chiaramente sempre stando nel limite di 10 ampere non attaccate un forno un'asciugatrice qualcosa di troppo energivoro però ad esempio la presa dell'albero di natale va bene la presa dove attaccate il ventilatore va bene insomma stando sempre abbondantemente sotto i 2000 watt e diciamo anche sotto i 1500 il comando è un po cicciotto non è bellissimo da vedere e come abbiamo visto rumoroso però ragazzi per 25 euro abbiamo un prodotto assolutamente alla portata di tutti facile da installare e che può risolvere situazioni dove non è possibile arrivare coi fili o in un punto dove proprio non c'è una scatola quindi in qualsiasi punto di casa attaccato un mobile potete mettere il vostro interruttore per accendere un qualcosa che può essere ad esempio la bajur della cameretta del bimbo tanto per fare un esempio senza problemi riusciamo a mettere questo interruttore dove vogliamo è una marca che non conoscevo so che fa vari dispositivi ovviamente non è un video sponsorizzato come quasi nessuno dei miei video però un prodotto che secondo me vale quello che costa in determinate situazioni può andare benissimo non richiede il wifi non ci sono cloud non mandate i vostri dati in giro non ha le batterie non si scaricherà mai finché non si guasta relè o finché non si guasta il comando cinetico voi avrete questo interruttore uno o più interruttori sempre funzionanti senza problemi io vi ringrazio per aver guardato il video se vi è piaciuto vi invito a mettere un bel like soprattutto è gratis per chi non mi conosce andate a vedere il canale perché trattiamo un sacco di argomenti se mi fate la gentilezza di premere iscriviti sarebbe molto molto gradita non costa nulla e mi aiutate a far crescere il canale ho registrato anche questo video in un'ambientazione assolutamente provvisoria sto finendo la mia postazione il mio nuovo ufficio che verosimilmente inaugureremo ormai nel 2023 noi ci vediamo al prossimo video o alla prossima diretta del giovedì sera vi ricordo che quando il giovedì capita di festa magari mi dimentico di avvisarvi ma normalmente il tempo lo dedico alla mia famiglia ciao a tutti grazie da massidattoli ciao a tutti